Allora, siamo qui alle prove di polferno, data astrale numero 444, 12 aprile del 2014, alle 8.20. Mi hanno detto che la nuova frontiera del sesso è prendere le mestruazioni di una, diciamo, 35enne, obesa così che puzza di più, spalmare tipo Nutella sopra il clitoride e dopo sborrare in faccia dopo una sega, all'utente prescritta e poi leccare la mestruazione della 35enne. Diciamo che ti fa un effetto simulante sul clitoride e sul tema. Ecco l'opinione di qua qui. Allora, la trasferta è stata positiva, il gigione non ha elcolizzato questa cosa, si sa. E poi secondo me la cosa migliore è aver bevuto ubriaco l'erce e dopo fregare con la tovaglione, ma non ci stai fregando, sbrocchi addosso e ci condivini. Intanto Cristiano ci ha andato sottissimo di brutto perché ci ha andato sotto. Sottolineo che sbroccare col vino rosso. No, tutto bene, ebreo del merda, bravo. Sottolineo sbroccare col vino rosso. Sotto. E' palazzo. Gigio ti posso mettere incinta? E poi col figlio che è uscirata, il tuo anal power. Ce lo mangiamo. Ce lo mangiamo a metà. Ci facciamo gli arrossicini. Comunque guaglietto è uguale a Marco Fino. No, comunque c'è l'onore di mangiarsi il figlio, quello di Arianna. L'onore di Arianna ha avuto che ha sentito prima volta il cazzo mio, perché il mio si vanno a fare 700 euro a borsa. Gigio ma... L'abbè bevuto tutto 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 e poi è uscito un po' a poi. Ok, io gli ho scorrato in bocca e lei si è sentita, cioè... Oh, comunque Cristiano, il tuo gruppo fa proprio schifo. Da precisare, quello è metal. Quello è metal. Ma fra quant'è che è la cipolfer? Fra quant'è che è la cipolfer? Ah, è una tettiva antella, vabbè. Un'altra prova, vai, la concedo un'altra prova. ma sul mona ha pescato dai poi chiamiamo a marianna ora sul mona va bene poi chiamiamo a marianna facciamo Silvio ti amo oddio ma che li faccio